Una fase fondamentale per garantire una pizza di qualità digeribile e gustosa è la lavorazione dell'impasto. Al Serenella Grado abbiamo investito e stiamo continuando ad investire molto per offrirvi un prodotto ad elevata prestazione. Il nostro impasto presenta un mix di farine che abbiamo selezionato e sperimentato fino ad arrivare all'attuale dosaggio per noi oggi soddisfacente a garantire un ottimo risultato in termini di gusto, fragranza, tenace ed elasticità. La lavorazione dell'impasto è stata preceduta da un'attenzione non solo alle precise quantità di ogni singola ingrediente ma anche dall'attenta verifica di parametri in gioco quali tempi e temperature. Tutti elementi fondamentali per garantire una costanza di qualità e caratteristiche del prodotto che giorno dopo giorno vi proponiamo. Il nostro interesse è continuare questo percorso di sperimentazione e proposta di nuovi ingredienti, valutare nuovi prodotti che possono incontrare il vostro gusto. Qui vedete gli impasti diversi che proporremmo nelle nostre serate di degustazione. Impasti già dosati, pronti per quella fase importante di maturazione in cella a bassa temperatura. Fase di maturazione fondamentale per garantire la digeribilità della pizza. Una pizza che da noi viene stesa rigorosamente a mano su una semola di adeguata grammatura necessaria a dare quel tocco finale di gusto e fragranza. Ora non vi resta che cogliere un'occasione unica per provare ma soprattutto per confrontare nella stessa serata diverse tipologie di impasto. Vi aspetto quindi da noi il 3 e il 10 luglio per due serate experience, pizza e birra e pizza e vini che noi stiamo organizzando con i nostri partner.